Giro, giro tondo, casca il mondo, casca la terra e tutti giù per terra. Il problema della divisione della torta è che la parte più grande va solo a chi detiene il potere. Il mondo non è sostenibile senza equità. Solo il tuo impegno civile può costruire un mondo più giusto.